Eccoci qua, ciao ragazzi, ben ritrovati. Allora, vi ricordo che fra due giorni uscirà un nuovo episodio di Tutti i Teorici, ci vediamo il 15 alle 15 sul canale YouTube di Tutti i Teorici per un episodio con un ospite speciale. Un ospite che ho avuto veramente il piacere di avere all'interno del podcast, un ex calciatore, un ex portiere che ha fatto degli ottimi anni quando ho iniziato a guardare il calcio e quindi è stato uno dei miei giocatori anche fantacalcistici preferiti. Non voglio spoilerarvi altro, lo vedrete poi nell'episodio del 15, ore 15, su Tutti i Teorici. Allora, ci sono alcune cose da dire. La prima, si è autosospeso Piero Sandulli, vicepresidente della seconda sezione del Collegio di Garanzia presso il CONI. La decisione è stata presa per questioni di opportunità dopo alcune dichiarazioni lasciate lo stesso Sandulli in merito al caso delle plusvalenze che vede coinvolta la Juventus e che hanno spinto lo stesso Collegio di Garanzia a prendere distanza da lui. Ricorderete anche una nota da parte della FIGC che sottolineava che quelle dichiarazioni erano state fatte esclusivamente a titolo personale e non si trattava di una sorta di anticipazione del giudizio. Bene o male, Sandulli è stato tra virgolette allontanato, si è autosospeso, ma c'è questo dubbio che possa essere stato il Collegio a chiedere l'allontanamento, anche se era molto probabile che Sandulli non avrebbe fatto parte del Collegio chiamato a giudicare sul ricorso. Quindi vedremo cosa succederà, però questa sicuramente è una notizia. Un'altra notizia molto brutta è che Mohamed Yattaren è stato arrestato in Olanda, da quanto riportano fonti olandesi, scrive Romeo Agresti, confermata notizia anche da altri giornalisti come Nicola Balice. Yattaren non si allenava da qualche giorno alla Continassa, da 5-5 giorni aveva fatto perdere le sue tracce, anzi la Continassa a Vinovo e in questo momento a quanto pare è stato arrestato per aggressioni nei confronti dell'ex fidanzata. Sicuramente una brutta 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 notizia lato calcio, lato Juve. Ma noi vogliamo cercare di parlare un po' di quello che è accaduto ieri e lo vogliamo fare con una lavagna tattica. Allora, ieri la Juventus è scesa in campo con un 3-4-3 o 3-4-2-1, che dirsi voglia. Quindi questa è la formazione della Juventus contro la Fiorentina. L'idea di Massimiliano Allegri era la seguente. Allora, parto dal presupposto che secondo me la formazione è ok. Ci sono delle cose che mi piacciono sulla carta e ci sono state delle cose che invece non mi sono piaciute sul campo. Perché la domanda da farci è perché non ha funzionato questo tridente, perché Chiesa Vlaovic e Di Maria non funzionano. Sono incompatibili tra di loro? Per quanto mi riguarda la risposta è no, possono funzionare ma bisogna fare qualcosina di meglio. Vi ho schierato anche la Fiorentina per cercare di capire alcune cose. Il problema principale è che la palla non è mai arrivata né a Chiesa né a Vlaovic né a Di Maria in maniera giocabile, perché la palla non arrivava al centro campo. La Juventus nei primi minuti ha fatto una partita che poi non ha replicato nella seconda parte, né del primo tempo né del secondo tempo, dove abbiamo avuto decisamente più problemi di gestione del pallone, perché all'inizio Costi ci attaccava a Dodò alto, De Sciglio attaccava a Biraghi alto e veniva a formarsi questa Juventus che cercava di andare a pressare da dietro. Infatti i primi minuti Chiesa, Vlaovic, anche Di Maria, tutti su Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Dodò su Terracciano, tutti in pressing. Poi a un certo punto abbiamo visto una Juventus calare sempre più, soprattutto dalla parte di De Sciglio. De Sciglio ha iniziato sempre andare un po' più indietro, Costi c'è andare sempre un po' più indietro, Locatelli sempre un po' più indietro, fino a formare addirittura quasi una linea a quattro con Bremer come secondo difensore centrale e per forza di cose sono scesi tutti gli altri. Ma il fatto che Locatelli si sia abbassato così tanto ha creato una sorta di buco a centro campo e questo ha fatto in modo che anche Chiesa dovesse venire indietro. Amrabat si alzasse con Duncan, di conseguenza e buonaventura, perché poi la Fiorentina ha iniziato a prendere metri, dato che la Juventus si stanziava a cederli e non andava più a pressare, andava indietro, aspettava in maniera passiva. Vlaovic veniva abbandonato a se stesso e Chiese e Di Maria dovevano tornare a centro campo. A un certo punto cosa fa Allegri? Si rende conto che la palla non arriva mai e che Chiesa e Kostic sulla stessa linea fanno bene o male gli stessi movimenti e chiede a Chiesa di andare in questa posizione e di invertirlo con Di Maria. Però Di Maria non ha fatto l'esterno, così come Chiesa non ha fatto l'esterno, perché Amrabat aveva troppa libertà e se Rabiot in teoria doveva prendere Buonaventura, Locatelli doveva dare un occhio a qua a me, ma guardare anche Duncan in questa posizione qua. E allora Allegri ha chiesto a Di Maria di andare su Amrabat, probabilmente sin da subito, e si veniva a formare una sorta di 3-4-1-2. Il problema qual è? Che Rabiot continuava a fare comunque la mezzala mancina, la mezzala di sinistra, ma in questa porzione di campo, proprio perché Locatelli si abbassava, Decidio si abbassava e Chiesa faceva l'attaccante, iniziava ad esserci un buco, un vero e proprio buco. E' iniziato ad abbassarsi pure Chiesa, perché la palla non arrivava, ma soprattutto iniziava ad abbassarsi Di Maria per andare a prendere il pallone, perché se no la davanti non arrivava. Di Maria è stato bene o male il giocatore migliore della Juventus, l'abbiamo visto anche nelle pagelle, vi ho lasciato il video delle pagelle già online, ho visto che sta andando forte, per questo vi ringrazio, speriamo che anche questo video possa andare allo stesso modo, ma Di Maria era costretto ad abbassarsi tantissimo. Eravamo arrivati a un punto, addirittura, che Chiesa sembrava quasi una mezzala di destra e Di Maria sembrava quasi un centrocampista se non un trequartista. Di Maria ha giocato a tutto campo, è andato a ricoprire tutte queste posizioni di campo, basta vedere l'itmap. Locatelli pure, ma il fatto che Locatelli si sia abbassato così tanto liberava questo spazio qui ed è per quello che Allegri poi ha messo Chiesa da questa parte, ma non perché Chiesa dovesse fare la mezzala. Ci siamo abbassati, tutti, troppo. E soprattutto siamo stati lunghi perché il primo tempo abbiamo avuto circa 25 metri di lunghezza, la squadra stava in 25 metri. Nel secondo tempo ci siamo allungati tantissimo e da 25 metri siamo andati a 31. Addirittura Vlaovic in questo caso veniva lasciato da solo, quindi avevamo una squadra molto lunga, perché Juventus si abbassava, la Fiorentina spingeva, quindi i terzini andavano ovviamente e i nostri esterni dovevano cercare di contenerli in qualche modo. Chiesa si abbassava tantissimo e avevamo una sorta di bremere Locatelli contro Cuome, Locatelli che davano occhiata anche a Duncan, ma qui c'era pure Chiesa e Amrabat sempre tenuto d'occhio da Di Maria. In questo modo capite bene che diventa difficile sviluppare il nostro gioco perché Di Maria e Chiesa dovrebbero essere giocatori sulla carta, se giochi con il tridente devono essere ben larghi, pronti a ricevere il pallone, invece Chiesa si trova in questa posizione, Di Maria qua per andare per vie centrali e in teoria dovresti andare sugli esterni per cercare appunto questo uno contro uno, Di Maria e Chiesa prendano la palla, vanno a puntare i difensori esterni e cercano di creare la superiorità numerica e metta la palla in mezzo, un po' come aveva fatto Chiesa in occasione della palla che Milenkovic manca e Vlaovic non ci crede, non va ad attaccarla perché ormai secondo lui Milenkovic aveva fatto sul pallone. E allora cosa succedeva? Dritto a Vlaovic e poi ogni tanto si cercava di allargare e quindi ci trovavamo sia Chiesa che Di Maria in questa posizione. Vlaovic pure perché comunque è un giocatore mancino quindi ama partire da destra per poter liberare il mancino con il tiro e ci avevamo tutti in questa posizione, eravamo tutti dentro al campo, tutti dentro al campo. L'esterno prima soltanto Costi cede Sciglio, quelle rare volte che scendevano perché all'inizio molto alti e poi col tempo abbiamo iniziato ad abbassarci. Quindi quasi questi tre giocatori hanno giocato nella stessa posizione e non si riusciva a prendere la profondità. Non che sia sbagliato, Di Maria potrebbe benissimo fare l'esterno e Chiesa Vlaovic e attaccanti, sì ma non in questo modo, non tutti qui, non tutti vicini e ovviamente che se Chiesa e Di Maria ce li hai devi cercare di tenerli più larghi possibili. Di Maria vuole entrare dentro il campo con il dribbling, Chiesa vuole puntare, andare sull'esterno, magari fare la finta di tiro, andare al tiro oppure mettere il pallone dentro e invece no. Dopo questo scambio tra Chiesa e Di Maria avevamo comunque Di Maria molto centrale per cercare di contenere Ambra Bat per andare a prendere il pallone e Chiesa che dentro il campo non riesce ad incidere come invece fa di solito sull'esterno. Il secondo tempo è stato pure peggio, secondo me abbiamo detto prima, ci siamo pure allungati ma poi i cambi di Allegri non mi sono piaciuti ed è una delle motivazioni per cui il voto ad Allegri secondo me alla partita di ieri è stato 5 e cioè abbiamo fatto dei cambi molto conservativi per cercare di gestire la Fiorentina che stava cercando di avanzare, la Fiorentina molto offensiva, sta perdendo, deve cercare di recuperare, saponare Quame come esterni, Jovic e Cavral come punte, Castrovilli, Mezzala molto sganciata, quasi da trequartista Ambra Bat a tenere sulla baracca in aiuto a Milenkovic e Ranieri quando si deve uscire da dietro con Terzic e Biraghi che dovevano spingere per forza di cose perché si doveva contenere, perché doveva recuperare e noi abbiamo cercato di contenere completamente rinunciando al fare gol perché prima dicevo nel secondo tempo ci siamo allungati tanto, certo abbiamo messo Ken lì da solo, vai Moise quando arriva la palla fai qualcosa perché ci siamo messi a un certo punto con Locatelli e Paredes in mediana, con Fagioli e Rabiot esterni del centrocampo a quattro, Kostic e Decilo sono diventati dei veri e propri esterni e Alexandro Rebner e Danilo dovevano cercare di tenere alta la linea anche se eravamo molto schiacciati, in questo modo Saponara, Jovic, Cabral e Kwame noi cercavamo di difendere a 5 e quindi creare superiorità numerica in questo modo accettando di perdere la parità numerica nell'uno contro uno e quindi di non ripartire, quello che vi dicevo ieri a me non fa piacere a Juventus che rinuncia completamente a fare gol perché se poi accetti anche di farti schiacciare così tanto con una squadra del genere come la Juve che non è fatta per essere schiacciata così tanto c'è rischio, Paredes doveva dare un occhio ad Ambra Bat ovviamente Locatelli doveva dare un occhio a Castrovilli, la partita di Locatelli è stata di puro contenimento e nel frattempo cercare di reggere l'urto. Il gol di Castrovilli è stato annullato, lo sappiamo e quello che dicevo ieri sera dobbiamo cercare anche di imparare da queste partite, non abbassarci così tanto, a non accettare il fatto di difenderci e basta perché non siamo una squadra fatta per questa cosa qui, la Juventus è una squadra che può prendere gol in un qualsiasi momento e lo sappiamo nonostante le partite in cui abbiamo vinto senza subire gol, non siamo la squadra perfetta per difendere ma soprattutto se iniziamo ad abbandonare ancora di più gli attaccanti, già Vlaovic ha fatto una fatica in mane che non è sicuramente l'attaccante giusto per tenere sulla squadra solo, un attaccante che ama attaccare la profondità e non giocare spalla alla porta, facciamo molta fatica. Quindi sulla carta l'idea del tridente iniziale, l'idea della formazione iniziale era molto buona, non siamo riusciti a sfruttarli perché? Perché proprio Chiesi di Maria sono giocatori che devono giocare larghi, vuoi perché Costice e Chiesa si pestavano i piedi, vuoi perché se no non c'era nessuno su Umbrabat e non potevamo permettercelo, possono essere tante le motivazioni. Allora mi viene da dire che se giochiamo contro una squadra che è un centrocampo a tre non possiamo permetterci il tridente perché se no per forza di cose uno deve andare a contenere lì e allora si perde un uomo, allora si crea un buco. Quindi tridente magari soltanto contro le squadre che gioca anche con la difesa a tre? Può essere, assolutamente. In caso contrario si potrebbe optare per una difesa a quattro, non guardate i giocatori, le posizioni, cercate solo di focalizzarvi sul tridente, però giocare con una difesa a quattro potrebbe essere differente perché? Perché poi avresti la copertura del centrocampo tre contro tre, no? Tre contro tre. E soprattutto avresti la possibilità di lasciare chiese di Maria larghi senza bisogno che uno tra chiese di Maria vada appunto a prendere il regista basso degli avversari e te la giochi in questo modo. Quindi la Juve tornerà a quattro, la Juve cercherà di migliorare questa cosa a tre o addirittura la Juventus cercherà di chiedere a chiesa uno sforzo di più e quindi giocare più dentro il campo insieme a Vlaovic con Di Maria trequartista può essere questa la chiave di volta? Non lo so, Di Maria sicuramente ha fatto una partita incredibile ma non so quante partite del genere è in grado di tenere Di Maria sempre a uomo sul portatore di palla. L'ha fatta, è stata una gran partita di Di Maria, l'ha risolta con l'assist, però non è quello che chiede Di Maria ovviamente. Lo vuoi tenere tra le linee perché credi che renda meglio e quindi può avere anche meno corsa sull'esterno allora devi passare a difesa quattro e giocare con una sorta di 4-2-3-1 e soprattutto chiedere a Locatelli di non abbassarsi al centro così tanto perché? Perché lui lo fa solitamente quando si gioca con centrocampo a tre ma quando si gioca col centrocampo a due non bisogna andare a fare l'altro centrale non per colpa di Locatelli, credo che sia stata una richiesta da parte dell'allenatore perché sennò poi si va a formare sempre sto buco che deve andare a prendere per forza a chiesa allora va centrale invece noi lo vogliamo bello largo. Ci sono un po' di cose da sistemare secondo me ci sono alcune cose che non hanno funzionato ma sono anche punti di partenza l'evento se non aveva mai giocato in questo modo in questa stagione non è andata bene perché secondo me non è andata bene lì davanti però ci sono assolutamente dei punti di partenza molto interessanti. Fatemi sapere se questa analisi vi è piaciuta, fatemi sapere se anche voi condividete questa lettura, avevate notato queste cose durante la partita in presa diretta e noi ci vediamo con un prossimo video.